Un concerto solidale Voci dell'Anima che servirà a reperire fondi per le madri africane ed è per questo che appunto si terrà questo concerto. Vediamo. 20 artisti, fra cantanti, musicisti e ballerini daranno vita allo spettacolo Voci dell'Anima. Un viaggio che accompagnerà gli spettatori attraverso il grande miracolo della vita celebrando tutte le mamme e lo straordinario evento della maternità, purtroppo non sempre reso possibile a causa dell'estrema povertà nella quale sono costrette a vivere tantissime donne africane. Si tratta dell'evento organizzato dall'Associazione Africa Chiama che si terrà il sabato 22 febbraio alle 21.15 al Palagei al porto di Fano. Una serata interamente dedicata alle mamme d'Africa. Abbiamo scelto di dedicare lo spettacolo Voci dell'Anima a tutte le donne africane che seguiamo in Kenya, Tanzania e Zambia. Ricordiamo che in Africa una donna su 16 muore per cause legate alla gravidanza che avvengono soprattutto per mancanze di informazioni e mancanze di strutture sanitarie e personale adeguato. L'Africa Chiama è impegnata su questo fronte da ormai tanti anni attraverso la presenza di ostetriche e di un programma specifico che si chiama Mamma Bambino che prevede l'ostacolo della trasmissione dell'AIDS dalla mamma al bambino. Questa serata che si terrà il 22 febbraio al Palagei alla Marina dei Cesari e al Porto di Fano vede la partecipazione di tantissimi artisti che hanno risposto positivamente al nostro appello. La prevendita è possibile acquistare i biglietti presso l'Associazione l'Africa Chiama in via Giustizia 43 oppure telefonando allo 0721 865159. Il costo del biglietto è di 15 euro. Tutto il ricavato della serata andrà appunto a sostegno di questi progetti delle mamme africane. Questi artisti vengono gratuitamente aprendo il suo cuore dando una mano all'Africa Chiama che è un'associazione che fa tanto, tanto, però tanto del bene in Africa e quindi in questo caso per dare una mano alle donne africane incinta con l'HIV quindi perché nel momento del parto il bimbo non prenda questa malattia. Quindi raccogliere soldi per questa cosa a tutti questi artisti, a me, ci ha toccato il cuore e veniamo qua a aprirlo. Non si tratta solamente di musica, parole, quindi canto ma anche danza. Sì, c'è la compagnia Alma Gitana di Lara Andres ci saranno tantissime canzoni quasi tutte canzoni di autore compositore di Fano, di Pessaro noi veniamo qua umilemente con questo concerto e ti ripeto, aprire il cuore perché nell'arte l'unica cosa che conta è questo secondo me. Furto in casa del...